Rolex GMT Master 2 Oro Giallo, il simbolo di prestigio e stile. L'orologio da pulso Rolex GMT Master 2 Oro Giallo è una testimonianza di lusso e funzionalità, un connubio di stile e innovazione che rappresenta un'icona dell'orologeria di alta classe. L'oro giallo è da sempre associato all'opulenza e alla raffinatezza, e la sua presenza su questo orologio è un'affermazione di gusto e status. Tuttavia, il GMT Master 2 Oro Giallo non è solo una dimostrazione di bellezza, ma anche un compagno di viaggio affidabile. La sua funzione GMT è una caratteristica rivoluzionaria che consente di visualizzare contemporaneamente due fusi orari diversi. Questa funzionalità è particolarmente utile per coloro che attraversano continenti o lavorano in contesti internazionali. La ghiera bidirezionale e la lancetta GMT di colore diverso forniscono un modo intuitivo e affidabile per monitorare due fusi orari in modo simultaneo. Una delle caratteristiche distintive del Rolex GMT Master 2 Oro Giallo è la sua versatilità. Questo modello è disponibile in varie configurazioni per soddisfare le diverse preferenze dei clienti. Una delle opzioni più popolari è quella con il bracciale Oyster, che è noto per la sua robustezza e il suo aspetto sportivo. Questa versione è spesso accostata a una ghiera completamente nera e un quadrante disponibile in diverse varianti di colore, come il nero e il verde. Tuttavia, una delle versioni più recenti e prestigiose è quella del 2023. Questo modello presenta un bracciale Jubilè, noto per il suo design classico ed elegante. La lunetta in nero e grigio contribuisce a creare un orologio di rara bellezza e sofisticatezza, che attrae gli amanti dell'alta orologeria. Indossare il GMT Master 2 Oro Giallo è un modo per esprimere il proprio gusto impeccabile e per abbracciare un'icona di prestigio e stile che si distingue in ogni contesto.